Il 2 maggio del 1958 nasce a Milano Giuseppe Dossena, campione del mondo nel 1982 con l'Italia di Enzo Berzot. Cresciuto calcisticamente nel Torino, conquista le luci della ribalta grazie alle sue apparizioni nella stagione 80-81 con il Bologna, che gli permettono di ricevere la prima chiamata della Nazionale dei Grandi per l'amichevole contro la Germania Est. Dotato di una tecnica sopraffina e di un'ottima visione di gioco, il regista, tornato nel frattempo a vestire la maglia granata, festeggia anche la sua prima gioia in azzurro il 23 settembre del 1981, proprio nello stadio di Bologna, lasciando il segno nel successo per 3-2 contro la Bulgaria. Punto fermo della Nazionale di Berzot, viene così convocato per il Mondiale del 1982 in Spagna, dove nonostante non abbia l'opportunità di mettersi in evidenza, si laurea comunque il campione del mondo. Un titolo che non sarà l'unico per Dossena con i colori azzurri. L'anno successivo, infatti, conquista con l'Under 21 di Azzeglio Vicini la medaglia di bronzo ai campionati europei di categoria. Escluso poi a sorpresa dalla lista dei convocati per il Mondiale messicano, disputa la 38esima ed ultima presenza con l'Italia nel corso del test match di lusso contro l'Argentina del 10 giugno del 1987, data anche dell'ultima vittoria azzurra contro l'Albi Celeste.